E' stata la terza donna a essere nominata giudice della Corte Costituzionale dopo Maria Rita Saule e Fernanda Contri, ma quando entrò a farne parte il 2 settembre 2011, nominata dall'allora presidente Giorgio Napolitano, Marta Cartabia era l'unica, una sorta di quota rosa in mezzo a colleghi uomini, ora è affiancata da altre due colleghe. Dal novembre del 2014 anche vicepresidente della consulta, per due volte, poteva diventarne presidente, ma alla fine la spuntarono due colleghi. Il suo incarico scadrà nel 2020. Classe 1963, originaria di San Giorgio, su Legnano, provincia di Milano. La sua formazione giuridica prende il via nel 1987 con una laurea con l'Ode all'Università di Milano. Titolo, esiste un diritto costituzionale europeo? Relatore Valerio Nida, futuro presidente della Corte Costituzionale. Marta Cartabia, un nome ben conosciuto in Europa e negli Stati Uniti, negli ambienti accademici, ha insegnato in diversi atenei, in Italia, all'estero, soprattutto in America, e dal 2004 è professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi Milano Bicocca. Il suo nome è ovviamente ben noto al presidente Sergio Mattarella e pare sia uno di quelli circolati con forza per ricoprire il ruolo di ministro nel governo Cottarelli nel 2018, naufragato insieme a quella ipotesi di esecutivo. Ma il nome di Marta Cartabia sarebbe anche stato valutato per il Quirinale tra il 2014 e il 2015, durante la lunga tornata che poi portò all'elezione dell'attuale presidente. Prima di diventare giudice della consulta, ha ricoperto altri ruoli istituzionali, come membro di due organi dell'Unione Europea sui diritti fondamentali dell'uomo. Dal 2017, membro della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il diritto, nel 2011 è stata nominata dama di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana. Una figura riservata, più volte ospite dei meeting di C.L. Arimini, alla consulta è stata relatrice della sentenza che nel 2015 dichiarò incostituzionale il decreto ILVA, che consentiva di proseguire le attività negli stabilimenti. Recentemente ha invitato il legislatore a intervenire sulle lacune della legge sul Biotestamento. Tra i giudici della Corte Costituzionale sarebbe stata la più critica l'idea di introdurre i super prefetti nel decreto sicurezza bis.